dei file di testo con i quali abbiamo a che fare tutti i giorni, tutti quanti, sono le pagine web. Vorrei realizzare con voi un prototipo di un utility per evidenziare in un file HTML le righe contenenti dei tag obsoleti, quindi non più utilizzati, che possono minare alle fondamenta la compatibilità delle nostre pagine con i vari browser disponibili. Aggiungiamoci anche il controllo di quei tag che sono solo di alcuni browser e che di nuovo minano la compatibilità incrociata. Per continuare devo sottolineare che richiedo da parte vostra almeno la conoscenza dello sviluppo di base di applicazioni Windows con il Visual Studio e C Sharp. Se non è il vostro caso vi conviene probabilmente fermarvi e scaricare le video lezioni che parlano proprio di questo. Ho aggiunto un bottone con il quale consentirò la selezione del file da controllare e in questo list box andrò a scrivere a mano l'elenco dei tag da controllare. Per i nostri obiettivi sarà sufficiente aggiungere soltanto qualche tag, ecco così è sufficiente. Ho anche cambiato il text del bottone e l'ho chiamato scegli file btn e intanto che ci siamo chiamiamo lista tag il list box. Per scegliere il file da controllare utilizzerò un open file dialog e poiché vorrò vedere i risultati registrati in modo permanente in un altro file di testo scelgo anche un save file dialog. Eccoli qui. Man mano che verranno individuate le righe contenenti uno di questi tag, la pagina web che poi andremo a preparare, queste stesse righe dovranno essere ricopiate in un file di log, in un file dei risultati. Ed è proprio a questo che serve questo secondo bottone a rileggere da quel file le stesse righe, così vediamo anche come si fa a leggere da un file di testo e a mostrarle qua in questa seconda list box che ho chiamato lista risultati. questo bottone invece è stato chiamato mostra risultati btn button. Gli ingredienti principali penso ormai tutti dell'interfaccia ci sono. Vediamo allora come leggere e scrivere un file di testo. Prima di tutto gestiamo la scelta del file da leggere e di quello in cui andare a scrivere i risultati. Doppio clic su questo bottone per accedere all'editor. Ecco il codice che gestisce l'apertura dei pannelli di dialogo di selezione file. L'ho già spiegato in altre video lezioni ma ripeto brevemente. Questo è l'open file dialog che viene mostrato sullo schermo grazie al richiamo del metodo show dialog. Il metodo show dialog se l'utente conferma con ok la selezione di un file restituisce un valore che possiamo confrontare con uno di quelli presenti nell'enumerazione dialog result. È molto comodo così non dobbiamo ricordarci a memoria dei codici numerici. Quindi se questo è uguale al valore alla costante che definisce l'ok potremo andare ad aprire il secondo box di dialogo per i file che è quello che ci farà scegliere invece dove andare a registrare i risultati. Quindi solo se sarà stato scelto un file da controllare verrà anche fatto scegliere il file sul quale registrare i risultati. Dobbiamo aggiungere una using per usare i file, la system.io input-output. Nel namespace.io sono definite le due classi che ci permettono di leggere e scrivere un file di testo. Lo stream reader e lo stream writer. Grazie alla classe stream reader potremo definire un oggetto che qui ho voluto chiamare leggi che poi utilizzeremo esattamente come se stessimo facendo una lettura di caratteri dalla tastiera. Per il metodo per il costruttore dello stream reader sono stati definiti diversi overload. Ma probabilmente uno dei più semplici da utilizzare è questo, al quale dobbiamo comunicare solamente il path, cioè il percorso, cioè la sequenza dei nomi delle cartelle che partendo da un certo disco arrivano a quella che contiene il file e il nome del file stesso. Ma ovviamente noi andremo a prelevare questo file nella proprietà file name del open file dialog box. Che come forse ricorderete non è semplicemente il nome del file ma contiene anche tutto il percorso che porta a quel file. Tecnicamente possiamo ora trattare l'oggetto leggi come se fosse la console e quindi utilizzare console.readline per leggere una riga, solo che questa verrà letta dal file. Ve lo dimostro leggendo la prima riga da questo file. Ho definito una variabile stringa a riga letta che verrà riempita dal comando readline con i caratteri della prima riga. Naturalmente sto facendo affidamente sul fatto che il file che andrò a scegliere conterrà veramente almeno una riga di testo. Non è ancora giunto il momento di preoccuparci di come gestire i possibili errori. È molto importante però abituarsi fin da subito a comandare a fine operazioni la chiusura dello stream per non lasciare occupate risorse inutilizzate da parte del sistema operativo. La cosa sarebbe ancora più grave nel caso avessimo creato uno stream writer perché in quel caso dimenticarci il comando close potrebbe portare alla perdita dell'ultimo blocco di dati inviato per la scrittura. Infatti per ottimizzare le prestazioni le letture e le scritture non avvengono direttamente byte per byte con i file fisici perché questo comporterebbe un gran numero di operazioni fisiche di gestione della meccanica o comunque dell'elettromeccanica del dispositivo di memorizzazione che porterebbe a tempi piuttosto lunghi. Quello che si fa invece è leggere il più possibile con una sola operazione fisica di lettura il maggior numero di byte in un buffer quindi in un'area transitoria. Perciò le successive readline non vanno da subito a rileggere dal dispositivo fisico altre righe ma se trovano altri byte pronti nel buffer in RAM leggono da lì. La stessa cosa accade quando si va in scrittura. Le righe che comanderemo come da aggiungere sul file non verranno immediatamente scritte ma verranno depositate in un buffer, di nuovo un'area transitoria, di RAM e solo al raggiungimento, al riempimento del buffer che corrisponde alla massima quantità di dati che potrà essere scritta con una sola operazione reale su disco verranno veramente inviate al file. È chiaro che se ci si dimentica di chiudere il buffer potrebbe capitare che l'ultimo blocco di dati ancora depositati nel buffer e non ancora trasferiti sul file vada perso. Non fidatevi anche se alcuni sistemi assicurano che alla chiusura del programma eventuali buffer non ancora scritti lo siano automaticamente. Non si può mai sapere. Quindi la sequenza, memorizzate bene, dovrà essere sempre questa. dichiarazione dello stream, di read o di write, l'utilizzo in qualche modo del file e alla fine la chiusura dello stream. Questo vale sia per lo stream reader che per lo stream writer. Conviene eseguire il programma in modalità debug e faccio clic qui per mettere un breakpoint, così che quando arriveremo in quel punto potremo andare a vedere veramente se la riga è stata letta. Oppure se preferite aggiungete un comando di message box per mostrare a video la rigaletta. Comincio a fare clic per scegliere il file. Leggiamo magari il file ccs quindi di codice del programma stesso non è un problema. Ora mi sta chiedendo dove andare a salvare i risultati. Aggiungo io un nome a caso tanto poi non ho ancora programmato questa parte. Ecco. Ci siamo. La riga non è ancora stata letta. Comando ora con avanzamento di un passo nel programma e andiamo a curiosare il contenuto. effettivamente è stata letta la prima riga con la using system. Naturalmente a noi non interessa leggere una sola riga ma tutte fino al raggiungimento della fine del file. Notate anche che non potremo mai fare affidamento se non in casi molto particolari, comunque con tutti i rischi del caso, su quante siano le righe memorizzate quindi direi che è proprio un errore di impostazione, un errore filosofico. Tentare di usare un ciclo for per leggere le righe da un file. Certo. Se fossimo certi che un certo file contiene, che so, 100 righe e noi volessimo leggere le prime 10, le prime 20, potremmo effettivamente utilizzare un ciclo for. il ciclo da usare è il why. Che cosa ci dice che non ci sono più righe? C'è una property, una proprietà la end of stream, proprio dell'oggetto stream reader. Questa proprietà è un boolean, quindi un vero-falso e viene automaticamente messa a vero quando viene raggiunta la fine del file, quindi quando non ci sono più dati da leggere. Ecco perché il nostro ciclo va avanti fin tanto che non è vero che abbiamo raggiunto questa end of stream. While not leggi punto end of stream. All'interno comandiamo la lettura, notate come abbia spostato la definizione, la dichiarazione della stringa riga letta prima del ciclo. Dicevo, all'interno del ciclo la riga viene letta con il metodo read the line. E poi che ci facciamo? Beh, ho deciso di aggiungere al momento tutte le righe a quella lista dei risultati che abbiamo predisposto qui. In effetti sto cambiando in itinere il significato di questo bottone, che non servirà tanto a mostrare i risultati, tutto sommato man mano che vado a controllare le righe. Quelle che contengono uno di questi tag, ho deciso che le andrò a visualizzare qui. Quindi questo bottone dicevo, non tanto mostra quanto salva risultati. Quindi prenderà ogni riga della lista e andrà a salvarla sul file indicato. Cambiamo anche il name, così. Torniamo poi al codice e mandiamo in esecuzione. Quindi non avendo indicato nessun criterio, dovrei ottenere una copia esatta del file che andrò a indicare nel listbox, lista risultati. Voi ve ne sarete già accorti, qua c'è un errore, non è riga ma riga letta, rimediamo subito e eseguiamo. Scegli file, andiamo su a cercare form 1 e qui mettiamo il solito A. ecco il file che è stato letto completamente.